Chi vi mostra il marcio in questa città? City Report! Chi chiami nel momento di difficoltà? City Report! Tra edifici abbandonati, quartieri vandalizzati, noi entreremo, ci siamo già entrati? City Report! Ne attento ma dove vai? Le storie in città non finiscono mai? City Report! City Report! Cari amici, eccoci, siamo tornati. Sono finite le elezioni di Milano, sappiamo come sono andate, ma credete che i problemi siano passati? Oggi vi faremo vedere qualcosa che sembra strano ma è così da tanti anni, speriamo non due altri cinque anni. Insieme a noi il mitico Hermes, sempre presente, ciao Hermes. Eccomi, eccoci qua. Oggi siamo in via Bovisasca, alle spalle ci abbiamo la goccia. Sì, la situazione non promette nulla di buono, già dalle strutture che vediamo qua intorno al di sopra del faticente, sicuramente ce ne aspettano delle belle anche oggi. E seguiteci, andiamo a vederle insieme a Paolo Rusconi alla camera. Andiamo! Abbiamo superato il Civico 22, questo è il posto che siamo interessati a vedere, come potete notare da fuori c'è una schifezza immonda e addirittura in questo spazio che a quanto ci riguarda è abusivo, sono stati appesi addirittura i cartelli con l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale. Un cane ci fa tanti saluti dal balcone e continuiamo a vedere qua un po' di schifezze. Bovisasca, City Report, stiamo vedendo la situazione qui di quest'area vicino al Politecnico, qui siamo nel piazzale delle Ferrovie Nord a Milano Bovisa, come potete vedere. Ma noi andremo a parlare invece di quello che succede su questo lato del Marciapiede, per chi arriva dal Politecnico e per chi viene comunque dall'altra parte della strada. Ecco, qui dovrebbero, Hermes, passare le persone su questo lato della strada, ricordo che dietro c'è il Politecnico. Assolutamente, sì. E risulta alquanto complicato, soprattutto per donne con passeggini. Portatore di handicap, ma anche persone normali. Anche perché, certo, anche per noi che siamo tutti interi. Oltretutto viene anche scaricata tutta la fogna. Certo, qua. Ecco qua, che bellezza. Eccoci qua. E la situazione va avanti così. Ci possiamo anche accontentare di questo, visto che comunque tutto il pezzo di strada che abbiamo avanti è tutto conciato in questa maniera. Certo. Andiamo a vedere cosa succede davanti. Ah, comunque lo sporco, io ho i guanti. E anche dentro tutto il verde, viene buttato dentro, guardate. E poi proseguiamo. Questa è la Milano Green della via Bovisasca, Municipio 9. E poi proseguiamo. Questa è la proprietà che dobbiamo andare a visitare, che è abbandonata da tanti anni, ma come vedete è in pessime condizioni. Fogliame, eccetera. Qua qualcuno carta, manifesti, non si capisce bene cosa c'è. Chiaramente è sempre sopra il marciapiede per rostruire il passaggio alle persone. Guardate in che condizioni è. Io ho i guanti, eh. Tutta ruggine. Come toccate cade tutto a pezzi. Però Paolo ed Hermes, nonostante tutto, questa struttura è l'esempio di quello che succede durante le elezioni. Infatti hanno attaccato i cartelli delle elezioni, qui e li vedrete ancora più avanti, proprio su questa parete, abusivamente. Io penso proprio di sì, però va bene. Guardate l'ingresso. Seguiteci che entriamo. Vai Hermes, oggi entri prima te. Piano, senza uccidersi. Ed eccoci entrati. Una rapida descrizione di quello che succede. Questa è la situazione che troviamo qua dentro. Bottiglie di birra, batterie, una scopa, un angolo dove, come potete vedere, ci si scalda. Allora, ci sono anche delle mattonelle messe apposta, dell'acqua. Questo è un teschio. È un teschio. Abbiamo ritrovato anche un teschio, ragazzi. Ma, questo mi fa pensare un po' male, eh. Sì, non cominciamo tanto bene. Anche quella cuccia del cane dall'altra parte non mi fa pensare bene. Rimettiamo i teschi dove stavano. Magari succede qualcosa di strano. Vombolette di colore di vernice. E questa qui è la proprietà che vi volevamo far vedere. Andiamo a vedere qui. Eccoci qua. Stiamo avvicinando all'ingresso della struttura. Che è proprio lì. La porta sembra chiusa. Quindi per entrare hanno dei blocchetti con una vecchia VHS. Ecco, guardate come si sono attrezzati per entrare qui dentro. Vi stiamo emulando quello che è l'ingresso in questa struttura da parte degli abusivi. Beh, come l'hai trovata? Pulita, vai. È pulita qui? C'è niente qua. Come polvere? Eccoci qui all'interno. Il nostro Paolo Rusconi ci saluta. E questo è quello che troviamo nella prima stanza della struttura. Che non promette nulla di buono. Qui c'è una porta. Sembrerebbe chiusa. La stanza prosegue. Sì, sì. Prosegue. Ecco qua il nostro Tullio che ci saluto da lontano. Ciao, ciao. Io sto qui a guardare fuori cosa succede. C'è una porticella lì a sinistra che secondo me potrebbe essere interessante. Andiamo a vedere che succede da questa parte. Ecco qua. Altro degrado. Altra desolazione. E questo è quello che succede qua in via Wysaska. Come struttura ampia. Struttura ampia e abbandonata che sicuramente potrebbe servire per fini più consoni. Per tanti altri stopi. Esatto. Come ripetiamo sempre. Ed ecco il nostro eroe che salta fuori dal covo. Perfetto. Eccoci qua. Proseguiamo. Scusatemi che qua ci si sporca da paura. Troviamo un'altra casupola qua sul fondo. Troviamo degli scarichi di un'impresa, credo. Ma la cosa che è da attenzionare. Guarda Paolo quella targa lì. PZ 29 27 63. Che ci fa qua? Una targa di un'auto? Perché normalmente le targhe vengono radiate insieme al veicolo. Non vengono conservate in posti aperti e abbandonati come questa. Chiederemo ai nostri amici della polizia locale. Magari ne sanno qualcosa in più. Magari serve per qualche attività non troppo pulita. Qua troviamo seppellita dal verde una vogliera per uccelli. Chissà che ci fa qui, chissà che i costori ha anche questa vogliera. E a fianco qui del marmo. Sembra roba anche del comune a dire la verità. In ottime condizioni. Sì, oltretutto in ottime condizioni. Ah, ci sono anche i famosi panettoni seppur non è Natale. Certo. Bene, bene. Quindi ci piacerebbe capire a che cosa serve questa aria. Per ospitare qualcuno con degli animali, a qualcun altro per accendere i fuochi con dei teschi neri, come vi farà vedere meglio nelle immagini di Paolo. Boh, non lo sappiamo. Sappiamo sicuramente che è una schifezza, che il marciapiede fuori è un'altra schifezza. Ma soprattutto sappiamo che qualcuno su queste palizzate già in pessime condizioni, arrugginite e schifose, ha avuto il coraggio di attaccarci pure la lista candidati del comune di Milano. Quindi qualcuno che ha a che fare l'ha vista. Però l'ha lasciata così. Va bene, questo è il municipio 9 di Milano, vi ricordo, e vedremo che succede. Usciamo pure. Sempre dentro la proprietà troviamo, stiamo uscendo, un sacco di cemento, con dentro il cemento, delle scarpe Nike, delle scarpe di non si sa che marca. Bottiglia di plastica, un altro posacenere. Ecco, direi a tutti quelli che ci seguono che l'immagine più inquietante di questo posto, al di là di tutta questa costruzione, che è pienamente fruibile, dell'ingresso comodissimo, è proprio questo teschio qua, con queste due lattine tagliate e questi mattoni che ci fanno credere che siano dei riti un po' particolari. che abbiano fatto anche le patatine fritte, come dice lui, però ho dei dubbi, non vedo le padelle. E il teschio non è commestibile. Sicuramente. Va bene. Vediamo ancora la cuccia del cane prima di uscire, qui. Un sacco di sporco, di ogni tipo. E questo bellissimo ingresso, colmo di cianfrusagli e tavoli, porcherie di ogni tipo. Ancora qui, a fianco all'ingresso presente, è ancora una cisterna. In compenso, però, le immondizie che troviamo in giro sono molto di più. Facendo una media di quello che ci è capitato in questi ultimi anni, questa è la prima puntata della nuova serie, devo dire che qui, fortunatamente, abbiamo trovato la menta, però abbiamo trovato anche il fico, che troviamo sempre in ogni proprietà abbandonata, Paolo. E oltre che il fico, abbiamo trovato anche le bottiglie di birra, per cui, la casistica di quest'anno è, nei luoghi abbandonati, le birre preferite sono i Canusa e birra Moretti. escludendo il tavernello e il vino in cartone. Nota di colore. Ah, c'è anche il mais. Ah, mi dimenticavo, è il mais. No, è il mais sopra la cisterna. Cioè, non si può mica dimenticare. Va bene, abbiamo visto che c'è qualcuno anche che ci viene a dare un'occhiata su cosa facciamo. Direi che è il caso, magari, di uscire. Andiamo. E siamo in chiusura di una nuova puntata di City Report, insieme ad Hermes e Paolo Rusconi, e vi facciamo vedere l'ultimo contrasto di questa zona, dove c'è il Politecnico, dove c'è parecchia riqualificazione, ma dove ci sono ancora questi mostri in giro. Questi sono i palazzi nuovi. Se guardate il marciapiede, vieni Paolo, fai vedere il marciapiede di questi palazzi nuovi. È abbastanza pulito, è decente, è civile. Poi invece andiamo a vedere quello che ci ritroviamo dall'altro lato della strada. E sicuramente capiamo che c'è qualcosa che non va, eh? Che qui la mano pubblica manca parecchio. Guarda qui. Almeno che non si voglia dire che questo è il verde di Milano, il famoso green, ma spero proprio di no. E se si prosegue per questo marciapiede, si può comunque vedere ancora pattume, 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 cosa che dall'altro lato Hermes non c'è. Assolutamente, sì. Ecco, lungo la strada chiaramente non può mancare lo scooter a noleggio, quello dell'ecologia. E sempre da questa parte della strada continuiamo a trovare questi scooter che ho scritto Milano, Comune di Milano, che sono posteggiati un po' alla bella e meglio dappertutto. Insomma, anche lì bisognerà capire i posteggi, ci saranno o non ci saranno? È normale che stiano sui marciapiedi? Vedremo. L'ecologia ha dei grandi limiti. Andiamo avanti. Nella parte esterna, dove eravamo stati prima, nell'altro lato. Guardate che qui, pietre, buttate così su un marciapiede, fortunatamente è molto più largo. Chiaro, qui dovrebbe intervenire AMSA, però qua ci sembra che il problema sia molto più radicato che AMSA. Altri sacchi dell'immondizia. E questo è il marciapiede da questa parte della strada, sempre nel municipio 9 di Milano. Direi che possiamo anche chiudere qui, tanto la situazione non è molto differente dagli altri posti. Vi faccio un grande saluto, siamo ritornati, seguiteci, che ne abbiamo da farvi vedere delle belle. Dermes, ultima nota di colore, gliela faccio vedere anche a lui, dicevamo le birre prima. E qua ci abbiamo l'Ichnusa. Quindi abbiamo azzeccato anche questa. Per questa settimana è tutto, seguiteci, un saluto da Tullio Trapasso, un saluto anche da Hermes. E ci rivediamo la prossima settimana? Certamente. Ce ne abbiamo da farvi vedere. Un saluto anche dietro la camera a Paolo Rusconi. Alla prossima. Alla prossima. City Report. City Report. City Report. City Report.